buonasera buonasera a tutti gli aretini che sono con noi questa sera le 18 e 30 la puntata numero 155 della diretta che il sindaco fa praticamente un giorno sì e un giorno no per commentare con voi insieme a voi i dati relativi al covid 19 la sua diffusione nella nostra città nella nostra provincia avevamo in questa trasmissione anche un po cominciato a parlare di temi cittadini che esulavano dalla dalla diffusione del virus perché in cui c'è stato un momento in cui ancora non eravamo in condizioni veramente difficili come quelle attuali mentre oggi dobbiamo dedicare tutto il nostro tempo necessariamente alla gestione di covid 19 e tra poco capirete perché bene cominciamo con i dati i dati che vi devo comunicare sono quelli in realtà degli ultimi tre giorni e quindi di sabato 6 domenica 7 e oggi lunedì 8 marzo eh tra parentesi e per inciso ricordo anche che proprio oggi a distanza di un anno esatto eh un anno fa veniva proclamato il primo la prima chiusura il lockdown italiano eh dal governo Conte eh oggi siamo in condizioni che vi commenterò successivamente ma eh i numeri in questo momento sono particolarmente delicati dunque dicevamo sabato c'eravamo lasciati venerdì cinque con cinquantotto contagi in città e centoquarantatré in provincia per poi passare sabato a centosette provincia quaranta comune e ieri domenica centoquarantasette provincia sessantuno comune oggi centoventicinque la provincia cinquantadue il comune bene questi cinquantadue del comune di Arezzo portano il totale dei contagiati da inizio pandemia a quattromila novecentosettanta con un totale settimanale di trecentosessantatre contagi i centoventicinque eh della provincia portano il totale provinciale a tredicimila novecentosettantadue casi da inizio pandemia con un totale settimanale di ottocentosettanta vediamo eh in proiezione lo stesso tipo di informazione ma relativa alla alla sola giornata di ieri cioè il delta ehm sulle ventiquattro ore in regione toscana e scopriamo che oggi la regione toscana ha un delta positivo di mille contagi in più che portano il totale regionale a centosessantacinque mila quattrocentosentocinquantun contagi con un totale settimanale di ben ottomila trecentotrentanove contagi sono numeri molto 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 diversi da quelli a cui eravamo abituati non più di tre settimane fa ed è per questo che siamo tutti quanti molto preoccupati vediamo anche il dato nazionale il dato nazionale è che che prego Gianni Rossi il nostro valente regista di mettere in sovraimpressione ci dice che in Italia oggi come vedete ci sono tredicimila novecento due casi in più rispetto a ieri più zero quarantacinque per cento quindi mezzo punto percentuale in più totale nazionale tre milioni ottantunomila trecentosessantotto i deceduti purtroppo trecentodiciotto più zero trentadue per cento e oggi e oggi purtroppo si supera la soglia dei centomila morti in Italia per coronavirus dimessi guariti tredicimila ottocentonovantatré attualmente positivi trecentoventinove va da sé che questo numero grosso di centomila ehm italiani che non ci sono più che quasi il numero dei degli abitanti della della città di Arezzo ci ci lascia veramente di sasso è un momento come vi ho detto critico sul quale dobbiamo avere la massima attenzione e concentrazione per riuscire a venirne fuori ehm su questo imposterei il ragionamento eh diciamo che eh il nostro governo sta lavorando per un eh probabile una probabile chiusura nazionale un po' come quella di un anno fa eh una sorta di lockdown nazionale mirato con weekend chiusi e coprifuoco anticipato che potrebbe durare anche tre settimane l'obiettivo di questa strategia sarebbe duplici da un lato si cercherebbe di frenare la diffusione del virus e dall'altro si permetterebbe un'accelerazione della campagna vaccinale così facendo secondo alcuni esperti l'Italia potrebbe ripartire a circa metà primavera in una situazione completamente diversa ad ogni caso e ad ogni modo la decisione verrà presa dal governo Draghi con ogni probabilità eh entro venerdì 12 marzo quindi venerdì prossimo il venerdì che viene adesso eh alla luce dell'ultimo monitoraggio fatto dall'Istituto Superiore di Sanità allora io pregherei anche Gianni a questo punto se noi parliamo un po' del dato nazionale di farci vedere il l'andamento dei grafici nazionali che ormai abbiamo imparato a riconoscere il diagramma pallini rossi e quello che riguarda eccolo qua grazie Gianni io me lo ingrandisco così lo vedo meglio anche io ecco il dato i pallini rosso sono i casi totali i guariti sono i pallini verdi e vedete come questi due dati sono fortemente in crescita nelle ultime settimane gli attualmente positivi negli ultimi tre giorni sono un po' calati questo sembrerebbe un dato migliore ma certamente non risolve il problema dei casi totali che stanno crescendo e come vedete i deceduti che eh vanno diciamo un pochino per conto loro in questo grafico con questa scala e quindi non si non si notano incrementi più che proporzionali o meno che proporzionali e c'è questa questo centinaio tra i tre e quattrocento cittadini che che sono deceduti che deceduti che muoiono ogni giorno che portano il totale come abbiamo visto praticamente a centomila eh italiani che non ci sono più per effetto del del coronavirus pregherei Gianni Rossi anche di farci vedere questo eh il diagramma dei positivi su contagi su tamponi che ci potrebbe dare qualche indicazione interessante da commentare eccolo qua benissimo vedete come i mh il diagramma celeste che il diagramma con cui noi calcoliamo i positivi sui tamponi fatti due giorni fa eh presenta oggi un valore di 7,55 non del tutto diverso dal valore rappresentato dal dal dalle colonnine viola di 8,05 oggi eh che rappresenta invece il calcolo dei positivi su tamponi odierni e come sappiamo ormai abbiamo imparato a riconoscere questi due e queste due colonne sono sostanzialmente identiche quando il numero di tamponi si mantiene costante nel tempo cosa che evidentemente non è ma la questione che ci preoccupa particolarmente è l'andamento della eh dell'interpolazione lineare di questi dati che nel tempo produce una retta di regressione che cresce con il tempo sia il diagramma a pallini rossi sia il diagramma verde che rappresentano l'interpolazione dei due modi di calcolo di questa importante grandezza eh ci danno un valore del parametro in crescita bene vediamo adesso ehm una particolarità come sapete per cercare di minimizzare il più possibile la presenza di persone nei parchi cittadini che rimangono aperti noi abbiamo fatto un monitoraggio molto stringente con la polizia municipale e in particolare abbiamo fatto ripartire il drone eh l'abbiamo fatto ripartire perché questo ci dà la possibilità di fare intervenire i nostri agenti e come dire smazzare un po' le persone specialmente i giovani che tendono a stare insieme allora pregherei Gianni Rossi di farci vedere questa registrazione che è arrivata oggi del lavoro svolto con il drone della polizia municipale che credo riguardi non l'ho visto quindi lo vedrò per la prima volta insieme a voi eh diciamo un monitoraggio su Villa Severi ecco al di là della bellezza delle immagini si vede un gruppo di ragazzi qui tutti insieme che senza nessun tipo di eh come dire eh attenzione stanno insieme e fanno anche dell'attività fisica diciamo tra virgolette di contatto questo non va bene ragazzi non va bene siamo in un momento particolare dovete cercare di stare separati come vedete arrivano i vigili eh e in qualche maniera li eh avvisano che non possono avere questo tipo di comportamento e che quindi devono stare separati l'uni dagli altri è un'attività di monitoraggio senza la quale la polizia non potrebbe intervenire laddove necessario nella maniera più tempestiva possibile i nostri agenti in servizio non sono in numero tale da poter garantire la presenza su tutti i parchi cittadini e in tutte le zone in cui l'assembramento potrebbe essere critico ma il drone ci aiuta a indirizzare vedete la loro presenza laddove è notato proprio dal drone una forma di assembramento particolare chiudiamo sempre con le immagini della nostra città molto belle bene veniamo eh veniamo alle risposte alle domande dei cittadini oggi ce n'è sostanzialmente una che ne raggruppa tante e sulla quale mi vorrei fermare eh in maniera particolare ah no no vi devo ancora dei ehm dei delle notizie per quanto riguarda l'andamento ehm l'andamento epidemiologico ehm certificato dalla dalla ASD che tuttavia non vedono i miei appunti quindi mi sa che Gianni Rossi non me l'ha mandato e quindi non vi posso dare le notizie che normalmente vi do sui letti occupati al San Donato alla eh terapia intensiva e al reparto di malattie infettive perché non ho come ecco me l'ha mandato questo grazie Gianni correzione in diretta quindi riesco a darvi anche queste notizie anche oggi benissimo recuperato all'ultimo minuto dunque dicevamo i ehm i positivi oggi in tutta l'azienda ASD eh eh Toscana Sudeste sono duecentotrentadue come abbiamo visto sono cento venticinque in provincia di Arezzo settantatré sono in provincia di Corseto e di Siena e trentuno in provincia di Corseto. Le i casi di Aretini come abbiamo visto sono cinquantadue altri numeri importanti in provincia sono quelli di Terranova Bracciolini con undici contagi eh Montevarchi e Castelfranco Pian di Scocco nove ho visto Sansepolcro con cinque Capriglia con sei poi altre con quattro tre quindi il totale comunque provinciale è cinquantadue ehm letti occupati eh ehm nella reparto di malattie infettive del San Donato di Arezzo è novantatré c'è ancora argine per arrivare ai cento venticinque che come sapete rappresentano al momento attuale un tetto massimo anche se ha avuto assicurazione che in caso di necessità si possano riuscire a ricoverare anche più pazienti. La terapia intensiva sempre al San Donato oggi presenta quattordici eh letti occupati la la decenza covid della misericordia di Grosseto quarantun decenti la terapia intensiva di Grosseto nove letti occupati. Numero di tamponi effettuati oggi in provincia di Arezzo ben mille cinquecentocinquantatré provincia di Siena mille quattrocentosessanta in provincia di Grosseto duecentosettantotto le persone positive in carico nella della sola provincia di Arezzo sono mille novecento e novantatré di cui ben mille seicentotventicinque eh in isolamento domiciliare. A queste si devono aggiungere i tre mila ottocento dieci quindi andiamo a tre mila quattromila ottocento cinquemila duecento il numero è quasi costante mi ricordo lo stesso numero venerdì era più o meno lo stesso che sono il totale delle persone in carico dei comuni della provincia di Arezzo tra contagiati e contatti stretti di caso. Bene questo era importante che ve lo dessi come dato perché ci dà la sensazione di quanto il nostro sistema sanitario sia in grado di reggere la botta di questi contagi che crescono. Devo darvi infine la la notizia che la nostra provincia rischia la zona rossa. Rischia la zona rossa perché il dato di criticità territoriale negli ultimi quattordici giorni fissato per passare in zona rossa è di cinquecento casi in due settimane ehm per cinque per centomila abitanti ovviamente. Noi negli ultimi quattordici giorni noi intendo provincia di Arezzo siamo a quattrocentosettantatré ad ora. Quindi siamo vicini al limite in cui la provincia come sotto zona regionale potrebbe essere posta in zona rossa con tutte le limitazioni della zona rossa. Ecco perché io mi spertico a dire sempre in questa trasmissione state lontani mettetevi le mascherine non sanificatevi spesso le mani perché dobbiamo evitare di spargere questo contagio all'intorno dei nostri eh della nostra delle nostre persone. Bene eh andiamo a vedere la domanda che poi come vi dicevo una sola eh che riguarda il sistema vaccinale e il sistema dei tamponi. Le domande sono più di una ve le leggo. Può darci informazioni sui tamponi rapidi in farmacia? Quali farmacie lo fanno? È necessaria per notazione? Quanto costa? È già attivo come servizio? Grazie. Grazie. E poi altre domande dello stesso tenore che non sto a leggervi. Dunque il tema è stato molto interesse quello che io vi ho già detto circa ehm nell'ultima diretta circa la possibilità offerta dalle farmacie. Questo è il risultato di una delibera della ehm regione toscana del ventidue febbraio scorso. Ehm anzi è una è una comunicazione che ha fatto l'azienda toscana sud-est che annunciava eh tra le varie news quella della ehm disponibilità di tamponi antigenici rapidi e eh sierologici nelle farmacie. Allora ho già parlato venerdì di qual è la differenza tra l'antigenico rapido e il sierologico quindi non ci ritorno. È un tipo di tampone di tampone o comunque di controllo che il cittadino e il cittadino può fare volontariamente e quindi va subito detto che non è gratuito ma ha il costo di 20 euro per ciascun controllo. In questo momento non abbiamo notizia certa di quali farmacie private sono in grado di svolgere questo servizio quindi preghiamo i nostri concittadini che vogliono farsi il controllo e lo vogliono fare in quella che chiamerei la farmacia di fiducia se fosse quella privata di chiamare prima di andare perché sono sempre ehm diciamo eh controlli che vengono fatti su appuntamento. Per quello che riguarda le farmacie comunali invece vi posso dare la notizia e se intanto Gianni mi manda in sovraimpressione il numero di telefono della farmacia comunale uno che intanto vi leggo che è zero cinque sette cinque novanta ventiquattro sessantasei è il numero della farmacia comunale uno di campo di Marti che è l'unica fra le farmacie comunali del nostro territorio comunale che esegue su richiesta del cittadino su richiesta volontaria il eh test antigenico rapido o sierologico. Ripeto il numero perché non lo vedo in sovraimpressione è zero cinque sette cinque il nostro perfisto di Arezzo novanta ventiquattro sessantasei eccolo qua perfetto zero cinque sette cinque novanta ventiquattro sessantasei chiamate prima perché dovete prendere appuntamento lì ci saranno due infermieri dedicati a questo tipo di controllo voi avete credo tutte le informazioni che vi servono per decidere quale fare ne potrete riparlare col vostro manico di fiducia ma sappiate che alla farmacia comunale uno sono disponibili tamponi antigenici rapidi e test sierologici che potete fare per verificare le vostre condizioni di salute e capire se è il caso o meno di porvi in isolamento e comunque di parlarne con il vostro medico di famiglia. Benissimo questa era la notizia che io la risposta al quesito che mi viene posto dai cittadini che riguardano il tema del controllo per quanto riguarda i vaccini siamo purtroppo ancora un po' indietro si stanno vaccinando ancora fasce di popolazione diciamo delicate rispetto ad altre non siamo ancora alla partenza del sistema di vaccinazione esteso a tutta la cittadinanza siamo ancora a fare vaccini agli ultraottantenni ai medici agli insegnanti alle forze dell'ordine e Campianino si comincerà credo ormai dal prossimo fine settimana a estendere ad altre categorie di soggetti a rischio la vaccinazione che la nostra il nostro servizio sanitario nazionale ha messo a disposizione delle varie regioni ricordo che su questa vicenda del dei vaccini tutta l'Europa è in ritardo in grande ritardo per quanto avvenuto sul mercato internazionale circa il il vaccino Pfizer e il vaccino AstraZeneca che ha creato dei problemi di consegna non secondario saremo più precisi e spero di potervi dare anche dei grafici per farvi capire quanta percentuale della popolazione è in questo momento sotto vaccinazione già al mercoledì prossimo quello che vi raccomando e con questo chiudo perché siamo già andati molto al di là dei 15 minuti diciamo che ci siamo posti come termine per questa trasmissione ricordatevi sempre le regole che rimangono sempre le stesse la sanificazione delle mani più spesso possibile la mascherina portata su naso e bocca la distanza sociale di un metro e ottanta mi raccomando a voi ragazzi mi raccomando stiamo rischiando di andare in zona rossa come provincia dobbiamo evitarlo a tutti i costi quindi queste raccomandazioni che qualcuno dice per rompiscatole del sindaco ci fa tutte le volte non sono fatte a caso sono quelle che ci possono garantire veramente ritenere lontano il virus da noi e quindi ricordatevi che se stiamo lontani fisicamente ma vicini col cuore ce la faremo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti